basta questa casa non è un albergo molto bene dopo che hai fatto tutto questo sclero meraviglioso hai esattamente trasmesso a tuo figlio l'idea di aver di fronte un pazzo furioso o una pazza furiosa oggi ti parlo di regole però ti parlo di come decidere come mettere le regole dimmi che non ti è mai capitato di sclerare come mi hai visto fare un attimo fa tipo tuo figlio fa ciasta sono sempre io devo sempre mettere in ordine tutto devo sempre fare tutto e non ti prepari mai lo zaino non fai mai niente allora se hai già visto il mio video in cui ti ho parlato di ciuf ciuf questo è il seguito preciso di quel video lì è inutile che nel momento in cui ti accorgi che tuo figlio non fa quello che ti aspetti che faccia tu fai degli scleri del genere oppure puoi scegliere di farli però sai che la risposta sarà di uno che ti guarda e dice ma questa qui che tipo di problemi allora uno dei principi fondamentali delle regole e deciderle a bocce ferme cosa intendo per bocce ferme la maggior parte delle volte i genitori dicono o mettono in atto delle conseguenze o si arrabbiano anche se i figli non hanno ben chiaro che cosa sarebbe successo mi spiego meglio metti in ordine la tua camera ok l'idea dovrebbe essere quando devi mettere in ordine la tua camera in che momento di mettere in ordine la tua camera in che modo devi mettere in ordine la tua camera e soprattutto qual è la conseguenza del non mettere in ordine la camera giusto per farti questo esempio ora uno dei motivi per cui tuo figlio non ti ascolta non rispetta le regole è che le regole non sono chiare in partenza perché non sono chiare in partenza perché quando tutto va bene non si capisce perché non si decide mai di mettere delle regole invece quando le cose non funzionano o soprattutto non funzionano come vuoi tu allora lì si schizza male e si dice si dicono cose di cui poi ci si può ci si può pentire quindi la regola principale delle regole è che vanno decise con la testa e non con la pancia quindi a bocce ferme